E allora siamo arrivati alla terza fase amiche mie, vedete questa è la mia macchinetta, questa è una macchinetta a manovella, vedete che io la giro così, però abbiamo quella elettrica pure, perché quella elettrica non l'abbiamo messa perché il pomodoro era una cassetta, la sto facendo da sola, vedete perché poi devo dare, qua metto questa pentola qua così togliamo tutte le bucce, questa è la mia salsa, vedete che buona, guarda che spettacolo. Quindi, vedi, io giro con il braccio che mi sono operata, do un movimento così faccio pure un po' di fisioterapia, ok, vi faccio vedere, vedete la mia salsa, poi vi faccio vedere quando l'ho finita tutta di passare.